ah non sei venuto qua per l'estate ah ah no perché cosa? sono venuto qua per darmi il buon Giorgio buon Giorgia, ciao Giorgio, ciao Gio, come stai? saluta mamma, buono per te no si infatti, ma per capire, ma che c'hai sul naso molto così torto? nooo, ma stai carino lo sai forse non avete capito regà, stasera ci sta la puntata di Gian sui ritoccati quindi datela su, datela a vedere che appena uscirà non so a che ora ci sta, adesso mi informo subito e vi dico a tutti quanti gli orari a che ora, dove, che canale, su sky, non ha tv e bla 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 adesso vi racconto un po' il personaggio che ho interpretato che è appunto un cantante che ha un manager un po' passerello che gli vorrebbe far fare, diciamo, un cambiamento drastico e strano per per darvi, diciamo, un po' più un po' di movimento alla sua carriera musicale e niente regà è veramente pazzo quindi l'idea stravagante che ha la dovete vedere questa sera sulla serie è veramente molto divertente quindi serio regà preparatevi e adesso mi sto facendo dire su che canale anche se ve l'ho già detto a me pare che mi resta le piace tanti eeeh e niente è Bruno, grandissimo rapper faremo una cosa che rimembra un pochettino Michael vi dice qualcosa Michael? Jackson forse? a stasera ciao belli taglia io mi sono svegliato stiamo freschi qua io e mio fratello oh aspetta che ho rotto guarda me guarda tanto sta fresco estate estate e stamo stasera in live io e lui ciao lascia che sia un errore romantico che portami via in una nuova nazione luci lucia hai fatto? ma che stai a fa' luci luci ma sei happiness oggi eh luci tu sei carino oh porco zio mi hai risciato di brutto oh bada bada c'è sta la luce perfetta luce 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 surfi una bomba luce la luce era luce luce altra e il lo Perché questa cosa l'avevo conquistato, mi sarebbe stato un gesto romantico. Cioè, cioè, regalare il tuo. Vabbè, noi qua siamo a posto, è sul divanetto a Cillammela, aspettando qua che inizia tutto. Sì, sì. Sì, sì. Continuo a fissare il mio riflesso, con la sguarda di un samurai, sentirsi è uno schifo non ha senso, stava a dare, sono sempre i tuoi. Il raro sia un bellissimo deserto, con il suo corpo di vulva. Noi qua stiamo in live, siamo in 42, e ci sta pure, aspetta, ci sta un ospite speciale, bella per Patrizietto, fai le swipe up, dai, come on. Che è? Che dì? Fai vedere. Si è vista. Che si è vista? No, si è proprio a filipi. No, no, no.